Sabato sera, sono da poco passate le 20.30, siamo a Marotta, una moto percorre la statale adriatica verso Senigallia. In sella c'è Jacopo Monaldi, 24 anni, che incrocia tragicamente la sua traiettoria con quella di un'auto. Lo schianto terribile, il rumore delle lamiere ed un corpo sull'asfalto. Finisce qui, finisce così, la giovane esistenza di Jacopo, di Ponte Sasso. La sua moto si è scontrata, per cause ancora da accertare, con l'Opel Zafira di un 47enne di Mondolfo che svoltava in via cesanense. Jacopo è grave, se ne accorgono subito i soccorritori del 118, ma lui non molla, è un combattente nella vita e non si arrende subito. Lotta, lotta come ha sempre fatto. Ma il suo cuore, a causa delle molteplici fratture riportate, di cui una alla testa, cessa di battere alle 18 di ieri, all'ospedale Torrette di Ancona, dove era stato ricoverato in rianimazione. Questa volta Jacopo la sfida non l'ha vinta. Lui che di sfide, alla sorte, ricercando sempre i suoi limiti, ne aveva lanciate tante. Aveva scalato montagne in solitaria, l'ultima impresa il Monte Bianco, fermandosi sui 4.000 metri nella parte francese dopo che nemmeno le guide volevano accompagnarlo. Ha attraversato i deserti in Australia e poi il mare, era anche bagnino. E la passione per la boxe, dove metteva tutta la sua potenza che il fisico che madre natura gli aveva regalato poteva esprimere. Era un campione Welter Senior, categoria 69 kg. Nella palestra dell'Audax Box Metauro, dove si allenava il suo guantone, campeggia insieme a quello di tanti altri campioni. E poi un sogno, voleva dare l'esame per i vigili del fuoco. Sicuramente, con la sua tempra, il suo carattere e la voglia di sfida, sarebbe entrato nelle squadre alpine a soccorrere chi è in difficoltà, come ora in Abruzzo, e scavare per strappare vite umane alla morte, che però non ha risparmiato lui.